Nel nostro progetto, nel nostro programma c'è proprio questo, quello di guardare ai collegamenti di lunga percorrenza al collegamento della Calabria con il resto del paese e del mondo e all'organizzazione della mobilità interna alla Calabria. La zona ionica è la zona più penalizzata, nella quale si registrano maggiori difficoltà, disagi, non solo in termini di collegamenti, ma in termini generali, proprio per questo noi abbiamo definito uno studio che abbiamo sottoposto al governo, che è quello di vedere al corridoio ionico, sia per quanto riguarda la ferrovia, sia per quanto riguarda la strada ionica, con una visione di riequilibrio anche all'interno della regione. di capacità di collegare una vasta area della regione al resto del paese attraverso investimenti in direzione della modernizzazione. Per esempio, noi proponiamo che ci sia un elevamento dalla classe A alla classe C della ferrovia ionica. Questo naturalmente ha delle implicazioni in termini di investimento, di miglioramento del binario, della propria infrastruttura ferroviaria, in prospettiva anche di elettrificazione, ma anche in direzione dell'ammodernamento del materiale rotabile. Noi abbiamo già, attraverso una concertazione con Trenitalia, con il Ministero delle Infrastrutture, avuto i primi segnali in questa direzione, due swing moderni percorrono quella ferrovia. Ancora siamo alla fase iniziale, c'è bisogno di fare di più, investire di più in questa direzione, e anche per questo abbiamo allocato risorse. Devo dire che noi puntiamo molto sugli investimenti in direzione del ferro, perché riteniamo che il trasporto pubblico locale, attraverso un miglioramento, un ammodernamento strutturale della mobilità su ferro, ne trarrebbe un grande giovamento, perché la maglia fondamentale della mobilità, riteniamo, debba in prospettiva puntare sul ferro. Rispetto alla precedente gestione Scoppelliti, si può ritenere una vittoria da parte della sua giunta? quella di aver portato due treni su una linea che fino a due anni fa era completamente abbandonata? Sono passi concreti nella direzione della realizzazione dell'obiettivo, quello più di fondo, che noi ci siamo posti, perché è chiaro che non bastano due treni per risolvere il problema. Sono passi nella direzione giusta. Il nostro obiettivo è quello di realizzare una modernizzazione del corridoio ionico. Anche nel contratto di servizio sul trasporto pubblico locale, che dovremo ancora sottoscrivere con Trenitalia, con FS, noi poniamo molto l'attenzione agli investimenti, alla realizzazione di una rete di mobilità su ferro, rispondente alle esigenze di crescita della nostra regione. Pensiamo che attraverso la sottoscrizione del contratto di servizio bisogna spingere nella direzione del recupero, anche qui, di ritardi enormi, di ritardi accumulati nel corso di decenni, perché la ferrovia ionica a cui lei faceva riferimento è proprio l'emblema di questi ritardi e l'emblema di questa marginalità nella quale è stata la regione per un lungo periodo anche nelle politiche nazionali e nelle politiche dei grandi enti di Stato, a partire dalle ferrovie. Presidente, girando per la Calabria, mi sono fermato in molte stazioni. Ho notato che non tutte, però la maggior parte sono quasi vuote, mentre nelle aerostazioni dei bus c'è gente che aspetta per muoversi. Non è possibile cambiare questa tendenza, secondo lei, anche perché comunque i trasporti la maggior parte sono privati? Questa è la testimonianza dell'abbandono che c'è stata da parte delle ferrovie di Stato nella nostra regione. è la testimonianza del fatto che l'abbandono ha spinto la domanda verso il trasporto su gomma. Chiaro, le stazioni sono vuote perché non è competitivo il trasporto su ferro rispetto a quello su gomma. Noi poniamo l'accento proprio su questo, investire per rendere competitiva la mobilità su ferro. Naturalmente lo facciamo con idee chiare, con progetti che abbiamo messo in campo, con proposte. Noi non siamo nella fase della rivendicazione verso il governo, verso le ferrovie, ma siamo più avanti. Siamo in una fase nella quale la regione sta proponendo, avanzando proposte precise, progettuali anche, tecniche anche. Quindi noi il confronto lo abbiamo spostato su un terreno più avanzato. Devo dire per esempio che in attesa che si realizzi lo studio di fattibilità per l'alta velocità, noi abbiamo proposto che si assumano già misure immediate. Per esempio la unica freccia d'argento che oggi serve la nostra regione, da Reggio Calabria fino a Roma, proponiamo che si verifichi un abbattimento di oltre 35 minuti di percorrenza, attraverso una misura che può essere assunta a costo zero, subito, evitando l'entratura da Afragola alla stazione centrale di Napoli della freccia d'argento. Questo servirebbe da Salerno, compreso Salerno, in giù, tutte le popolazioni e con un tempo di percorrenza abbattuto di oltre 35 minuti.